Come sta Gabriele del Grande? Gabriele sta bene, abbiamo avuto modo di incontrarlo a lungo questa mattina, di parlare con lui, di verificare che le sue condizioni sono buone. Lui ha accesso senza alcun tipo di problema a un'assistenza medica in caso ne avesse necessità. Perché sta facendo lo sciopero della fame? Lui ha intenzione, sta realizzando questo sciopero della fame, ma oggi sappiamo che ha preso alcuni succhi di frutta, qualche liquido, qualche tè e non ha ricevuto alcun tipo di maltrattamento, le condizioni sono assolutamente buone. Mi stanno interrogando sui contenuti del mio lavoro, avete capito, chiarito anche questo passaggio di quello che lui ha detto nella telefonata? Questo fa parte naturalmente delle indagini che ci sono in corso. Quando uscirà? Non sappiamo ancora, questo è un aspetto su cui stiamo continuando a lavorare.